Dal produttore al consumatore direttamente nelle piazze della provincia di Salerno torna la spesa in campagna, evento promosso dalla Confederazione Italiana Agricoltori, un evento che promuove la qualità delle diverse aziende del nostro territorio e soprattutto a chilometro zero. Il concetto di filiera corta che qua a Salerno è rappresentata dalla CIA, dalla spesa in campagna non solo la riproponiamo ma si rafforza in quanto è stata estesa nell'ultimo periodo sull'intero territorio provinciale, Salerno città, Battipaglia, oggi viene fatta la tappa inaugurale qua a Baronissi, compresa anche Cava dei Tirreni con un appuntamento settimanale. Quindi come possiamo ben vedere noi cerchiamo di portare quelle che sono le eccellenze della nostra provincia ai consumatori delle cittadine in provincia di Salerno. Entriamo nel dettaglio di questa idea, una persona si può regare in una di queste città il sabato e può comprare prodotti a chilometro zero di qualità? Compra prodotto a chilometro zero di qualità, uno dei problemi principali oggi per il consumatore è quello soprattutto della garanzia della tracciabilità e dell'etichettatura del prodotto. Noi qua garantiamo che queste aziende sono aziende agricole della nostra provincia perché ci mettiamo noi la faccia, infatti usiamo il motto ci mettiamo la faccia sulle nostre locandine, proprio per dire al consumatore voi qua otterrete la garanzia di genuinità sui vostri prodotti, il chilometro zero che sta a significare che è un prodotto che non è soggetto a viaggi ma è del loro territorio e anche un risparmio in termini economici in quanto viene tagliata la filiera e vengono tagliati degli scambi all'interno della filiera e quindi c'è un doppio vantaggio per il consumatore.